Ragazzi, l'abbiamo spangata anche questa settimana, incredibile a dirsi ma è successo con Camillas, Panzieri e Medri, sono andata a casa più che dignitosamente, devo dire fate qualche caduta di stile in un paio di... Il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge No, è vero Il tavolo? No, il tavolo, sì Però, se vi siete persi qualcosa, se vi siete persi qualcosa... Beati voi No, testa Il giorno non c'eri, affacciateci a YouTube, a YouTube, YouTube, iscriviti a Molto Bene Officiale Quello, quello, se vi siete persi qualcosa E sul canale c'è il meglio del meglio di Molto Bene Il meglio del meglio Che ascoltate la domenica in diretta e il sabato il giorno prima in replica Vi abbiamo debitato 90.000 euro per il costo di 100 fan Verificate i vostri bonus disponibili, inclusi nella vostra offerta dell'app My 100 Fan Nell'area Tugurio Sì Di Pappaio Ogni di tanto 1-1 Barra 1 Padre Quello lì Grazie a Zagor, che oggi non stava bene, vistosamente Ma è guarito È riuscito a guarirà È l'amore dei tradioscoltatori che lo fa guarire Grazie a Ruben e Camillas Ruben e a Zagor, grazie ragazzi Saranno in concerto venerdì e sabato prossimo Quindi sabato prossimo non ci saranno in onda Che peccato Che peccato Venerdì a Padova, sabato a Modena con i Camillas Che ieri invece erano a Teramo Qui si gira ragazzi Grazie a tutti Ciao ragazzi Buon fine settimana A sabato prossimo Molto bene Ogni sabato Dalle 14 alle 16 Sono raggiolinea numero 1 E in replica la domenica Dalle 22 Di Camillas Michele Pansieri E Andrea Medri